We're Orchetti, supportatemi tutti quanti come creatore scrivendo il codice Orchover The Gamer 12, tutto attaccato Supportandomi come creatore avrete l'opportunità di giocare con me su Fortnite E se volete potete anche inviarmi la richiesta di amicizia su Epic Games, le accetto a tutti Il mio ID Epic Games è uguale al codice creatore che potete trovare scritto anche nella descrizione Buonasera a tutti Orchetti, sono Orchoverde In questo video volevo informarvi riguardo tutte le novità più importanti che sono state scoperte dai dataminer questa mattina dopo il rilascio della patch 9.30 Prima di iniziare non dimenticatevi di lasciare un bel pollicione in su, commentare e condividere il video E poi seguitemi sui social, potete seguirmi su Instagram Orchover The Gamer, tutto scritto piccolo e tutto attaccato Sulla pagina Facebook e sul canale Telegram e se volete potete anche entrare nel gruppo Telegram, trovate tutti i link nella descrizione E possiamo iniziare subito E' stata scoperta questa nuova skin leggendaria che secondo i dataminer è la skin segreta del pass battaglia della stagione 9 Come avete visto dall'immagine questa skin avrà tre stili di cui dura sbloccare completando queste due sfide appartenenti a questa skin Poi è stato scoperto un nuovo pacchetto con sfide con ricompense V-Bucks Questo è il pacchetto che contiene una skin con il suo dorso decorativo Di queste quattro sfide con ricompense in V-Bucks per un totale di 1000 V-Bucks La prima sfida darà 100 V-Bucks, la seconda 200, la terza 300 e la quarta 400 Poi è stato scoperto un nuovo evento estivo di 14 giorni con sfide e ricompense gratuite E poi sono state scoperte queste tre nuove armi che verranno rilasciate nel corso di queste settimane nella modalità battaglia reale di Fortnite Che sono una nuova granata, un nuovo revolver e il fucile a pompa a tamburo E nientorchetti se ci saranno altre notizie, novità e informazioni come sempre ve le porterò sul canale Quindi nientorchetti io spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate un bel pollice in su, commentate e condividete Se siete nuovi iscrivetevi al canale e poi seguitemi sui social Trovate tutti i link dei miei social nella descrizione E da Orco Verde è tutto, ci vediamo al prossimo video Bella!